Ciao a tutti ragazzi, buonasera, benvenuti in questa diretta, siamo qua alla serata dei single, guardate qua abbiamo un ospite qui ragazzi, tu sei vestito da? Io sono un maniaco sessuale, da maniaco ragazzi, è vestito da maniaco e basta, l'età giusta del maniaco, ok perfetto, è arrivato l'età del maniaco, bene bene bene, noi siamo qua a Massa Lombarda questa sera ragazzi, abbiamo un po' di maschere, iniziamo questa seratina dei single qua e speriamo vi divertiate a vederci noi che siamo qua tutti stramascherati, ecco qua, abbiamo anche la tiktoker Nadia Ceccarelli, eccola qua la nostra tiktoker in forma sbagliante, abbiamo la gialla, abbiamo tantissimi personaggi questa sera, ecco qua abbiamo anche Andrea da Trento, Andrea Ruspa, ciao, buonasera, come andiamo? Tutto a posto? Sono qua abbastanza, vai, 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 ecco qua, benissimo, bene bene bene, benissimo, vai che ci siamo, ma qualcosa, ma mica tutto, qualcosa, cosa c'è? Metà, 50%, metà, pochissimo eh? Stiamo aspettando ancora un po' di gente, e là, buonasera, grande festa questa sera, cin cin si brinda, vai alla salute, perfetto, alla chanté come si suol dire, bene abbiamo delle bellissime donne questa sera, e vai, champagne per brindare a un incontro, e vai, holà, buonasera, sui calici, oee, cin cin si brinda, vai, quante farfalle che ha la Roberta? Quante farfalle che ha la Roberta? Questa sera ha le farfalle, vai, ci siamo eh, ci siamo, ci siamo, grande Sigismondo, e vai, e vai, arrivano, 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 ti preoccupare, Sì, 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 oh, ragazzi, ragazzi, buonasera a tutti, buonasera, fatemi sentire un applauso, un applauso agli altri, buonasera, benvenuti a tutti, facciamo conferenza a San Vento, visto che San Vento fa conferenza a noi, allora, stiamo aspettando ancora sette, otto persone, ma arrivano sicuro, queste vengono da Rubico, che si vengono da modere, sono i cittadini, scontrolli, comando, cosa vuoi? Allora, ragazzi, io vi facendo, perché non vi conosco, vedo che oggi ci sono anche delle new entry, come suol dire, lui ad esempio è una new entry, non l'ho mai vista, è una new entry, e noi siamo qua per mangiare, tra pochi minuti mi feriamo, il motivo principale però per cui noi siamo qua, è che dobbiamo risvegliare emozioni, Alice, emozioni, stasera si va a casa col batto cuore, lo dai a me, siamo qua per risvegliare le farfalle, farfalle nello stomaco a go-go, perfetto, e tra le tante cose, e anche oggi è il venerdì grasso, quindi nonostante quest'anno sia cascato strano il carnevale, perché c'è il carnevale parallelo a San Valentino, e parallelo a San Rengo, e tutta una roba che è, vabbè, più di generale che fa scatto, è così uscita, per noi non è il papo del testo, è il papo del testo, sto qui a chiudere, è vero, non lo so, ma una volta in parete, queste facciate le stile, per San Valentino, che si può festeggiare, quello che non si è festeggiato dell'anno precedente, quindi, comunque quest'anno va così, come faremo a risvegliare le farfalle nello stomaco, voi non dovete flertare necessariamente solo con la persona che avete davanti potete, ma non è necessario quando vedete una persona che vi piace lui ha già le farfate non sono le foto vai 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 profitevi del momento che ti ha detto e dici oh, guardiamo che bella copia ehi, che farfalloni alla grande questa volta ha colpito anche questa volta bene, bellissimo perfetto, la grande allora, quando vedi la persona che ti piace capite, canta e bella e se qui non posso cambiare arriva un caldo ti diamo Carlo buonasera ma chi è questo bellissimo? ho la risca ciao è una principessa medievale la porto al tacco guardate che meraviglia vieni, vieni, vieni voi lo visite a pascherare prego eccola qua la principessa medievale wow complimenti yes grazie grazie Allora, quando vedete una persona che vi piace, scrivete quello che dice, fate un messaggino, poi c'è una, consiglia, adesso vi voglio dare un nuovo così quanto vi preparate. Primo messaggio di questa sera numero 9, chi è numero 9? Ecco, guarda, ecco qua, numero 9. Fantastico. Così ce la facciamo? Grazie, grazie. Il trio lescano. Non fa niente, ha del tempo a disposizione per l'uomo che è insegnato. Benissimo. Come vorresti muovere? Un uomo simpatico. Spero che colui che hai di fronte raccoglia le tue esigenze. Bene. E intanto qua, numero 9 per te. Yes. Va bene. Ragazzi, intanto buon appetito. Buon appetito, poi adesso proseguiremo fa un po'. Adesso mi lascio mangiare, dai. Va bene così. Buon appetito. 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 Grazie. Neanch'io, neanch'io. Allora dovete... Fatemi... Oddio scusami. Scusa. Fatemi il cin cin che vi... Dai. Alla vostra ragazzi. Allora dovete... Allora dovete... Passa, passa. Passa, passa. Per andare dove? Mi si attacca nelle dita Ma sta andando? Thomas numero uno Capito Paola? Capito Paola Qua c'è la qualità alta vedo No, no, non è il mio il telefono No, no, non è il mio il telefono No, no, non è il mio il telefono Thomas Bello quell'occhiale Mattia ha detto che doveva aspettare cinque minuti Stava arrivando in cinque adesso Me l'ha detto No, no, non è il telefono No, non è il telefono Non è il telefono Certo Il telefono come? di secca più o meno da chi scrivi? sarà meglio ah ma appunto te devi scrivere al personale 1 il resto lascialo perdere che tanto chi è? chi è? vuoi venire? vuoi venire? vuoi venire? no? no se vestito vi faccio entrare di qua vi faccio rapidi signori prego prego c'è la registrazione vivo ciao buonasera 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 abbiamo l'infermiera lì c'è Rossano e voi due qua la Rossano certo la facciamo dopo assolutamente sì come va? come va? croce rossina e vai stasera e vai benissimo facciamo una foto subito vai qua voi tre dai una da sola dai qui 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 così e vai benissimo con te prendi il telefono vieni con questo ti preoccupare no è tutta roba sua il mio lì gira metti giù quella devi fare lì favela col mio che la pubblico vai wow che odore siamo belli vieni vieni di là di là di là tira via questo telefono ma non posso è una diretta ah scusami vai vai rossano lo fanno lavorare wow perfetto alla grande sta fermo un'altra cosa che ne fa un'altra vieni qua e vai alla grande 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 Rossano ci tocca a fine tutto stasera oh vai buon appetito mangiate adesso vediamo da lisca qua bellissima che bella che meraviglia hai visto dove? ah beh sì ti hanno già visto tutti te ti hanno visto che ero che che buon appetito che che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come andiamo? Tutto a posto. Travestita da vedova. Che vedova? È triste. È triste? Come mai? No. Eh? Ah, la gallina. Allora è da spennare. Ah, ok. È da spennare, dai. Perfetto, perfetto. Allora. Va bene la mia dire. Ascolta, è finito? Magno il salame. Polistirolo. Polistirolo. Ecco che arriva. Oh, oh, oh. Ma se è la testa. Andrei arrivato a Robbett. Dai. Allora. Signor. La mia parola. Allora. 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 Grazie. 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 Oh, c'è pra me? Bravo, c'è pra me? C'è la mia mie? Buongiorno. Grazie, gente. Buongiorno. per me mette fame you and me non è questa la sua ah beh, in fresco it's so big cosa? per vedere quando fanno una buona pizza sai cos'è la mia notte? la mia notte è una buona pizza invece di rosa rosa mi viene non di bianca perché bianca è cruda bene bene Susanna e vai pista farfallosa e vai farfallosa è farfallosa ma insomma stasera bisogna energia sono le farfalle che girano da qui ma non è vado diciamo stasera e vai vai e vai è arrivato vai vai grande trombet ecco qua la Roberta vai ma chi è schettino è? è schettino stompi via stompi stompi Guadami! 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 Vai! Vai! Sorriso! Guadami! Guadami! Tac! Dopo con la pizza! Loro non la vogliono! In buca! In buca! Eccolo qua! Vieni! Guadami! Guardami! Guardami! perché non c'è neanche il pesce che piattone ragazzi fai mangiare un pochi di roba così ma c'è droba e vai sorrisone? tu? guardami libero vai guardami 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 che bellezza una bellezza e vai guardami 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 vai guardami Sì, ciao. Ne volevo la metà? È la metà? Ho capito, ma è tanto lo stesso. Non lo mangio tutto. Comunque vabbè, mangerò un po', lo porterò a casa. Sembrano carote. Ma non sono carote. No. Sono gnocchi. Non sono carote. No, c'è la rappa. No, la rappa. No. E' la rappa. No. La rappa fa rosso. No. 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 Grazie. Grazie. No, Paola. Prima del Covid. Mamma mia che piace. C'è la foto per te. 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 Grazie a tutti. 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 Dopo faremo tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Siamo a posto? E vai. Tutto l'anno? Esatto. Esatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Buone. 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 numero tre ragazzi chi è la numero tre numero tre numero tre al momento non c'è fa anche rima numero 120 uomo 120 è lui tienmi la direzione benissimo ciao 120 no così devi chiamarla ecco bravo ciao come ti chiami Cigis Mondo Cigis Mondo la cosa sei descritto tu la egiziano mettiti la maschera nel cittadolo vai a vedere al pubblico ecco vedete Cigis Mondo è un egiziano esatto da dove vieni viene dall'Egitto ovviamente da sciarpo da sciarpo 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 e cosa fai nella vita? la gente non viene la gente deve vendere piramidi fatti mi capire vendere piramidi in Egitto ragazzi fantastico bene bene e come vuoi la donna ideale? una donna è normale come quella che è davanti normale normale è normale allora io ti consiglio che ti consiglio che è davanti a casa quello fai bene invece va bene 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 è B.O.P. è proprio origine grazie grazie anche la cameraman 3 euro 3 euro la donna è normale eccola qua non è normale questa però dice no non è it's not normal va bene ok patinta andiamo avanti numero 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 3 chi è la numero 3? oh eccola qua buongiorno come ti chiami tu? buonasera buonasera Roberta da dove vieni Roberta? ma da Bologna e vai è venuta qua ecco perché sei arrivata per l'ultima perché è venuta a 30 all'ora l'ultima è trombetta è vero è lui è lui come mai sei tu l'ultimo è sempre sempre l'ultimo ascolta tu cosa fai nella vita? ah sta facendo un corso benissimo eh ma sono io quello e come fai a fare quella cosa lì? sono in live ah sono in live ah ok bene su tiktok dove sono? su tiktok star maker oh yes very good for me cosa fai nella vita? il corso come vuoi l'uomo? è difficilissima e come lo vuoi? un uomo che la colpisca tac tac come Fred Flickson con la chimica non con l'acido però beh insomma con la dobbiamo stare attenti perché oggi giorno con la chimica ok ah lo sguardo ho capito complicità ho capito vai prego ma vedo che le farfalle le hai già a te qua ah ha un vestito di farfalle benissimo bene 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 trombetta è il protagonista di tutto questo esatto vai vai avanti Savoia numero 102 1-0-2 chi è quest'uomo ragazzi? 102 è un uomo di razza bianca 102 chi è 102? che non siano quei tre che sono andati 102 ragazzi guardate il numero è trombetta ah è trombetta yes very good ciao trombetta come ti chiami? no Francesco Francesco da dove viene Francesco? sempre da casa di la vita ah viene sempre da la sua fino qua ok bravo mi guardi cosa fai di per la vita? metà 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 ragazzi lo dice tu come vorresti la tua norma ideale? sono normale ma guardate 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 che viene bravo bravo ma sono già 100 da mani bravo vedi non capito ecco qua vai 102 ah si non c'è bravo perfetto perfetto numero 6 ragazzi numero 6 chi è la numero 6 numero 6 è una donna eccola qua eccola qua ciao eccola numero 6 io sono io la numero 6 si ciao sono la maritussa qui ciao come ti chiami? patti patti chiari amici ah patti chiari amici da dove vieni? forlì viene da forlì cosa fai di per la vita? non lo puoi dire? lavori con le poche fune qui no non lo so di solito sono quelli che non lo so la testa lavora con la testa benissimo bene che è come vorresti un uovo con la testa e se c'è anche il cappello va meglio? ma col cappello ah un uovo ecco un uovo col cappello ma sotto al cappello c'è una testa va bene ok la testa la testa ce l'hanno tutti bisogna dire com'è deve essere piena deve essere piena la testa piena e anche con le più di cosa? piena di cosa? piena così di burtigoni piena di grigia si chiama guarda che io una volta l'ho preso casa migliore scaldato come la testa allora 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 adesso poi 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 Paola le ho lasciate due le ho portate 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 vai Paola la vuoi mi ferma te poverino hai bisogno di buscato si e finiamo fra poco ora le pene no le pene no tutte quelle tutte quelle pollicini chiapriamo noi io io la coca cola me la porto a scuola si me lo daino coca cola si coca cola coca casa per l'uomo per l'uomo con tutte quelle bollicini bollicini con tutte quelle tutte quelle tutte quelle bollicini con tutte quelle tutte quelle bollicini le pene ola ragazzi vai siete troppo forti vai 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 siete forti passiamo assolutamente siamo forti poi allora signori vai you 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 oh ragazzi forza siete troppo statici troppo troppo statici forza forza dobbiamo fare vai 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 stiamo ancora su agitato agitato mosso vai 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 facciamo questa forza forza ho là vai si 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 with you poppy 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 guardate questo aspetta aspetta dove vai con le mani sbucci lei ci vuole e se conosco sulla pelle e anche le figate con le mani con le mani se vuoi puoi dire di sì fa trovare nuove sentazioni farsi trasportare alle emozioni è un incontro di mani questo amore usa le due mani su di te le due mani così all'improvviso le due mani così all'improvviso si sono fatte spalla fuori e dentro di me ehi ora capitani coraggiosi signor Lui con le mani preghi il signore guarda un po' più basso guardati apri le finestre con le mani con le mani se vuoi puoi dirvi di sì ora e provare nuove sentazioni farsi trasportare alle emozioni è un incontro di mani questo amore usa le due mani su di te su di te le due mani così all'improvviso le due mani così all'improvviso si sono fatte spalla fuori e dentro di me ehi ehi fai la mossa la mossa in diretta eccole lui è lui il cavaliere nero pronto ehi 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 wuhuu le nuove sentazioni farsi trasportare dall'erno a fiori è un incontro di mani questo amore con le mani se vuoi puoi dire di sì le due mani così all'improvviso le due mani così all'improvviso si sono fatte strada fuori e dentro di me ehi 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 baru baru ba ba baru 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 ba ba